Ci sono buone notizie che arrivano dalla Regione per i lavori di ampliamento della discarica Salaceno-Salinella di Sciacca, l'intervento beneficia di un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro. La notizia di oggi è l'acquisizione da parte della Regione della prima tranche da 8 milioni di euro e questo consentirà entro il prossimo mese di giugno, secondo le previsioni, di poter espletare la gara d'appalto e dentro il mese di dicembre del 2021 di poter procedere all'affidamento dei lavori. E a proposito di rifiuti, nota politica oggi del gruppo di Sciacca di Fratelli d'Italia che interviene sulle discariche e l'abbandono di rifiuti, un fenomeno molto diffuso a Sciacca, scrivono in una nota e chiedono all'amministrazione di intervenire proponendo da un lato l'installazione di telecamere e di videosorveglianze e dall'altra una massiccia campagna di comunicazione. Ci sono alcune contromisure del comune di Menfi per fronteggiare l'ondata di contagi Covid, quasi 70 i positivi a Menfi nella giornata di ieri e siamo in attesa delle ulteriori notizie. Sabato 9 gennaio non si svolgerà il mercato settimanale a Menfi, fino a domenica 10 rimarrà chiuso il cimitero comunale e poi non sarà possibile nei prossimi giorni recarsi negli uffici del municipio di Menfi se non a seguito di un appuntamento. E a proposito dell'emergenza sanitaria, è arrivato nella notte il provvedimento ponte del governo con decreto, il 7 e l'8 gennaio sarà zona gialla, poi ancora zona arancione nel weekend e successivamente dovrebbe arrivare un nuovo DPCM per disciplinare i giorni che verranno. Intanto si tratta di 7 giorni in cui il governo si prende del tempo per valutare la curva dei contagi. Costruttori di bellezza, il nuovo progetto lanciato dall'amministrazione comunale di Santa Margherita Belice e in particolare dall'assessore al turismo Francesco Sciara che abbiamo intervistato questa mattina. Chi si occuperà di un aiuolo, di uno spazio verde comunale o anche di una zona più ampia per realizzare un orto nelle aree periferiche del comune belicino concorrerà ad uno sconto del 20% sulla Tari. Tutti i dettagli nell'intervista risoluto.it di Francesco Sciara. E' investire nell'imprenditoria e nel commercio e quanto è la mission che si pone il piccolo comune di Contessa Entellina e un'altra intervista al sindaco Leonardo Sfera realizzata da Salvo Ogni Bene. Investire proprio nell'imprenditoria per puntare ad una rinascita di tutte le attività commerciali. Ma tutto questo e molto altro sempre su risoluto.it. Grazie. Grazie.